la parte dei seminari di messina descrivendo la storia della sede e le sue capacità e le tematiche che affronta in ultimo citerò i passi futuri che vogliamo intraprendere in questo nuovo cammino iniziato in forza all'istituto di scienze polari e partirò da lontano ma arriverò velocemente ad oggi l'istituto sorge nella zona falcata di messina ossia nel porto accanto al faro cinquecentesco del montorsoli che vedete raffigurato nella stampa seicentesca e di fronte alla destra dell'istituto è sempre presente il vortice ricorrente di calidi quindi come vedete siamo nel cuore della storia descritta fin dai tempi di omero nell'ottocento vari studiosi visitarono la città e lo stretto per studiare gli organismi marini che sono particolarmente rigogliosi per le condizioni gli app welding che gli disinnescano il professore cron nel 1844 definì lo stretto il paradiso degli zoologi più tardi anton d'ord nel 1868 dopo l'abilitazione si trasferì a messina con un collega russo e concepirono un piano per coprire il globo con una rete di stazioni di ricerca dove gli scienziati avrebbero potuto fermarsi collezionare materiali fare osservazioni e condurre sperimenti prima di spostarsi verso la successiva stazione poi due anni più tardi ritene più idonea la città di napoli per fare la prima stazione in questo piano da quella prima stazione fatta quindi in italia napoli altre stazioni sono state create in tutto il mondo dal conto suo l'italia solo nel 1910 ritenne di fare un piano di stazioni a livello italiani con la costituzione del reggio comitato talasso grafico italiano in cui l'istituto idrografico di genoa della marina aveva un ruolo cruciale il comitato aveva funzioni esecutive per lo studio fisico chimica e biologico dei mari italiani prevalentemente il rapporto all'industria della navigazione della pesca e per l'esplorazione dell'aria e dell'alta atmosfera nei riguardi della navigazione aerea riguarda ricordo che eravamo vicino agli anni in cui fratelli wright e fecero il primo volo nel 1913 reggio comitato quindi decise che la marina stanziasse una cifra di 20 mila lire per cinque anni per finanziare la costruzione dell'istituto centrale di biologia marina a messina in alto vedete una foto dell'inaugurazione nel 1916 l'aneddoto da raccontare che la nascita della sede di messina è concominante alla confisca dei beni a anton dorme in quanto tedesco infatti l'italia nella prima guerra mondiale era nella passione opposta alla germania e solo nel 1920 i beni della famiglia furono tornati al figlio del dono e lui stesso nominato direttore della stazione zoologica di napoli che nel frattempo aveva ripreso le attività dopo il conflitto l'istituto nasce nella zona falcata di messina accanto ai quattro edifici della marina ancora esistenti e di fronte al faro della città in quel tratto di spiaggia che vedete nella cartolina spiaggiano dei pesci abissali in condizioni di vento grecale e luna e luna piena portati in superficie dall'acqua welling il primo direttore dell'istituto fu luigi sanso la foto in alto a destra di lui scrisse il suo allievo antonio spartà non del gruppo fra i più importanti della pauna marina in cui non si debba ricordare i studi futuri l'opera del sanso sicuramente un illustre scienziato e sanso non solo era quindi un valente scienziato ma seguì direttamente tutti i lavori di progettazione e costruzione dell'istituto nella slide riportato un particolare di uno dei due pecten posti all'ingresso della sede una foto della biblioteca è uno dei quadri che adornano le stanze della sede fatto da filiberto mazza illustre disegnatore che lavorò nella sede negli stessi anni del direttore sanso dalla sua costituzione fino all'inizio degli anni 90 il primo piano era destinato all'abilitazione del direttore mentre il piano rialzato che voi vedete nello schema era destinato a studi e laboratori che nei primi anni avevano un gran numero di acquari per lo studio degli stati embrionali dei pesci la parte colorata in blu sono gli attuali studi dell'isp e la parte colorata in rosso sono invece i laboratori in dotazione isp ha pure un equivalente di spazio come depositi sotto il piano dei laboratori la parte colorata in rosso oltre questi spazi isp condivide con il bim l'edificio del tirassegno nazionale che si vede nella foto a destra e viene utilizzato come auditorium inoltre abbiamo un comune un parco di diecimila metri quadri tutto meraviglioso ma sicuramente caro da gestire durante il periodo della direzione sparta l'istituto cambia denominazione prendete il nome di istituto sperimentale l'astro grafico e passa in forza al ministero dell'agricoltura e foreste le ricerche sono incentrate sulle specie ittiche di interesse per la pesca in questo periodo viene edificato un acquario nella villa comunale di messina gesta gestito dall istituto l'astro grafico durante la direzione di antonino cavaliere e arriviamo vicino alla storia degli attuali dipendenti di ist avviene un rilancio dell'istituto mettendo nuova linfa a cominciare dagli anni ottanta e nella foto che vedete ci sono molti colleghi che adesso fanno parte dell'istituto di scienze polari tra cui brunella laferla renata zaccone che sono state ambe due importante per la mia crescita nel mondo della ricerca poi in foto ci sono dei giovani giovanna maimone filippo azzaro si vede in basso a sinistra un giovane silvio greco che ha dato molto lustro all'istituto anche in termini di attività polari non presente in foto il dottore risati ma anche lui entrò in forza del trasso grafico negli anni 80 venendo dall'università di messina sulla destra i professori genovese e faranda che all'inizio di questa nuova era del trasso grafico hanno portato idee progetti e giovani dall'università di messina facendo sviluppare i campi dell'acquacultura e della pesca e della microbiologia infatti il professore genovese è da ricordare per essere tra i primi ad aver studiato la batteriologia marina in italia ed è proprio grazie ai suoi studi a cominciare dagli anni 50 dopo un soggiorno in francia che i suoi allievi di messina sono diventati a livello nazionale ed internazionale un riferimento per questa tematica di ricerca ricordo anche il professore paranda che non ha bisogno di una mia presentazione perché ha guidato per parecchi decenni la biologia marina italiana sia nei mari italiani che polari ed ancora oggi l'asse scientifico italiano universitario nel campo della biologia marina mantiene quell'assetto da lui fondato da metà degli anni 80 e con il ruolo di direttore dal 92 il dottore grisati è stato sicuramente il deus ex macchina dell'istituto della storia in tutte le scelte strategiche eccetto per il periodo dell'istituto per l'ambiente marino costiero dopo il pensionamento del direttore bruno d'argerio le intuizioni maggiori del dottore grisati sono state legate allo sviluppo del tema della microbiologia marina dotandosi dal 2000 anche di un laboratorio di biologia molecolare l'ulteriore sviluppo della tematica dell'acquacultura della pesca e soprattutto il tema del monitoraggio ambientale da piattaforma o battello che ha portato tante risorse alla sede di messina di sicuro il tema della biologia polare all'interno della sede di messina lo dobbiamo a lui che per tanti anni insieme al dottor monticelli la dottoressa la ferla sin dalla quarta spedizione del pnrea lo hanno portato avanti con molteplici progettualità a fianco degli istituti in quegli anni è sicuramente a ricordare il professore che magazzù che ha avuto un ruolo indiscusso nella crescita dell'istituto e di molti di noi il focus degli studi della sede di messina dell'ispa è incentrato lo studio della microbiologia dai virus ai batteri della relativa catena trofica fino al fitoplancton considerando sia lo studio della biodiversità quello dell'abbondanza e quello delle attività da quelle produttive a quelle di remineralizzazione studi vengono fatti anche sui livelli superiori della catena trofica mediante bioacustica gli attivi della ricerca le svolgiamo sia al polo sud che al polo nord a mare negli ambienti lacustri e nell'ambiente terrestre sia nello strato attivo che nel permafrost studiamo la pompa biologica marina della dalla produzione primaria alla respirazione microbica nelle acque profonde analoghi studi sui cicli biogeochimici li facciamo nei laghi e su terra sia nello strato attivo che nel permafrost tanto per interfacciarmi con la presentazione dei colleghi di bologna noi studiamo tutti i processi biologici il cui risultato netto si trova nelle trappole di segmentazione di un mooring insieme alla componente inorganica è quella che viene trasportata per attrezione tuttavia il nostro orizzonte temporale è un'ora per le attività microbiche estrapolabile fine a un giorno mentre la bottiglia di raccolta posta nella trappola di sedimentazione di un mooring ha un orizzonte temporale più lungo che vada a due settimane a un mese o più in termini spaziali possiamo avere un insieme di misure come un network di un mooring ma questo dipende dal dal mezzo nautico a disposizione per fare le misure in termini di tempo le nostre misure sono puntuali e solo con uno sforzo di campagna stagionale si possono avere dei risultati che possono dare delle indicazioni a livello annuale noi abbiamo un robusto data sette di queste misure sia nel mare di ross ed in piccola parte anche nel comschiod siamo gli unici che abbiamo dati accanto a un ghiacciaio marino artico come dice dicevo nell'intervento dell'altra volta e tra due anni li avremo anche in antartide siamo i primi in italia da aver studiato la microbiologia delle brine antartiche e tra i pochi gruppi al mondo per studiamo per la loro importanza come analoghi di ambienti marziani infine è doveroso comunque sottolineare che la sede di messina a un data sette di dati biogeochimiche microbiche a livello mediterraneo pari solo a quello che hanno i colleghi spagnoli e francesi solo per integrarci con tutti i colleghi dell'istituto che in parte sono geologi o comunque si occupano di argomenti legati al paleo gli organismi che noi studiamo ossia in massima parte i prokarioti linee viola esistono in una scala dei periodi geologici portata un giorno quasi dalle prime ore ossia 4 miliardi di anni fa e loro hanno modulato con le loro attività il pianeta da sempre basti ricordare il più grande stravolgimento ambientale sulla terra ossia la comparsa dell'ossigeno ad opera delle prime alghe unicellulari da allora gli organismi anossici primordiali sono rilegati nelle nicchie ecologiche e come ho scritto in un recente articolo sono i candidati alla conquista dello spazio nel futuro come futuri pionieri inseminati dall'uomo in altri pianeti concludo che troverete batteri ovunque ed ogni dove sulla terra pure nella carota più profonda di ghiaccio e se non li trovassimo dovremmo interrogarci su perché della loro assenza loro sono i veri padroni della terra la biologia della sede ha quattro pilastri principali che sono biodiversità ed adattamento risposta ad un impatto intropico e cambiamenti globali potenzialità biotecnologica e bioprospecting astrobiologia non mi dilungo più sui temi verranno descritti dai miei colleghi nelle diverse presentazioni in parte oggi nelle slides legate ai laboratori della sede dei 50 progetti attivi caricati sul portale d'istituto 15 sono della nostra sede quindi il 30 il 30 per cento dei progetti sono nella sede di messina i progetti operano sia in artite che in antartite e sono e sono solo due alle nostre latitudini 6 chiudono le attività 4 nel 2021 e 5 nel 2022 tanti progetti sicuramente ma vista le agenzie finanziatrici in realtà pochi fondi disponibili per il futuro alla stato attuale abbiamo sei progetti presentati nella scorsa colpi nra e sei nella pol del prano quindi una grosse molo di lavoro che mettiamo in campo anche in fase progettuale noi siamo partiti in 12 dipendenti 10 ricercatori e due tecnici poi abbiamo due ragazzi stiamo crescendo da un paio di anni e quattro tirocinanti dell'università di messina adesso tre colleghi sono alle dipendenze dell'inps e in meno di due mesi un altro collega andrà in pensione tra sei anni resteranno cinque dipendenti di cui uno tecnico quindi lascio lancio quindi un allarme al direttore su questa questione in termini di pubblicazioni abbiamo una discreta produzione e questa è l'incidenza percentuale di isp messina rispetto a quella riportata nel nel portale per le altre sedi ma sicuramente non tutti i colleghi delle altre serie hanno ancora caricato tutti i lavori facendo una carrellata veloce sui laboratori ne abbiamo cinque il primo è quello di microscopia ambientale cui si fa qui si fanno tutte le analisi rivolte allo studio delle cellule prokaryoti e prokaryotiche batterie arca e del filo planton attraverso tecniche di microscopia in epifluorescenza le matrici ambientali studiali sono molteplici sono principalmente acqua dolce salmastra marina brine ghiaccio neve sedimenti marini permafrost e volendo potremmo fare anche l'aria si fanno anche analisi morfometriche per la determinazione della biomassa in termini di questi campi al microscopio indicano una serie di metodi utilizzare per discriminare le cellule vive dalle morte oppure quelle che respirano si fanno anche analisi con sonde specifiche per capire principali fila dei prokaryoti presenti nel campione nel laboratorio di biogenica microbica si svolgono tutte le tematiche possibili legate alla microbiologia dallo studio dei processi microbici allo studio del metabolismo i parametri studiati sono molteplici diretti o indiretti e vanno dalla produzione primaria alla stima della biomassa filo plantonica e microbica mediante la stima della clorofilla e dell'attivi gli obiettivi principali del laboratorio bio gem sono lo studio del ruolo biogenico dei microbi la valutazione dello stato ecologico all'utilizzo dei parametri biogeochimici come sentinelle di variazioni ambientali nel laboratorio di biologie e biotecnologie microbiche le attività sperimentali sono rivolte allo studio ecologico e più tecnologico dei prokaryoti in diversi matrici ambientali diversi sono i metodi che vanno dall'isolamento e mantenimento in cultura di ceppi batterici all'estrazione ad analisi del dna e rna ambientali le matrice dove studiamo i prokaryoti vanno dalla criosfera alla plastisfera nel laboratorio ecobim studiamo sia gli aspetti ecologici che quelli biotecnologici gli aspetti ecologici hanno legami che vanno dal global change alla contaminazione ambientale vengono considerate anche le implicazioni astrobiologiche della vita in ambienti estremi vedi per esempio le brine presenti in antartidi in lati perennemente ghiacciati riguardo agli aspetti biotecnologici moltevi ci sono gli spunti che vanno dalla produzione di biomolecole con applicazioni industriali per gli enzimi o antibiotici alla rimozione di inquinanti a basse temperature usando prokaryoti per esempio idrocarburi o pcb nel laboratorio di chimica si esegue un'analisi chimiche di base per la caratterizzazione dei corpi idrici marini costieri e pelagici il lachi fornendo supporto tecnico scientifico allo studio dei cicli biogeochimici e dei processi ecologici anche in relazione alla acidificazione marina nel laboratorio di chimico diversi prototipi di analizzatori di nutrienti sono stati sperimentali sia su piattaforma che su battello infine ma non per ultimo via il laboratorio di biodiversità acustica ed ecologia marina si occupa dell'analisi delle sorgenti acustiche e sottomarine biologiche lo studio delle dinamiche ecologiche degli ambienti marini vertebrati ed invertebrati e la valutazione degli impatti del rumore di origine antropica sugli organismi marini in particolare il laboratorio si occupa delle analisi dei dati acustici e valutazione delle dinamiche ecologiche della stima in modellizzazione del rumore sottomarino e delle componenti acustiche ambientali dell'analisi delle variazioni biochimiche fisiologiche e dei comportamentali degli animali esposti a disturbo acustico la stima del paesaggio acustico vedi per esempio lo sceglimento degli acciai e della presenza del comportamento di target biologici viene fatto sia mediante acquisizione con target puntuali da imbarcazione che mediante strumentazione allocata su un moving i passi futuri della sede sono racchiusi nei seguenti dieci punti tutti con la medesima importanza e dipendenza uno dall'altro nell'ambito del mio mandato di ruos spero di realizzare gran parte insieme ai miei colleghi e dal direttore il primo è la dotazione di un amministrativo per la sede di messina poi maggiore integrazione con i gruppi di ricerca dell'ispi delle varie sedi e questo già l'abbiamo incominciato abbiamo una serie di progettualità che abbiamo messo in campo sia con la sede di roma che di bologna che di venezia rafforzamento delle collaborazioni a livello italiano maggiore internazionalizzazione sia in artide che in antartide rinnovamento della strumentazione scientifica anche con dotazione di nuova strumentazione strategica avvio di serie temporali con diversi approcci strumentali sia a mare che a terra costruzione di un laboratorio atto a lavorare a temperature controllate per lo studio su microcosmi di specie marine e lacustri polari oltre che a ricerche sul microbioma nei suoni e nel permafrost costituzione di un museo di ceppi batteri artici a proposito la dottoressa lo giudice già gestisce quello dei ceppi antartici rafforzamento degli studi polari con potenzialità legata all'astrobiologia formazione delle future generazioni di ricercatori polari è relativo loro ingresso nelle fine della sede di liste di messina ringrazio tutti i colleghi di messina che hanno accettato la sfida dell'istituto di scienze polari ed in primis il dottore grisati perché senza di lui questa sede non si sarebbe potuta creare un doveroso ringraziamento va al passato direttore di isp ed all'attuale che hanno creduto in me una parola di incoraggiamento va verso i nostri due precari che lavorano con noi da diversi anni maria papale vincitrice di un progetto in antartide e ciro rapazzo purtroppo per ora senza contratto un ingraziamento ma anche a luiz monticelli che è stato un nostro caro collega e primo microbiologo polare dell'istituto tarasso grafico ed infine silvio greco che anche lui nel tema delle risorse viventi ha rappresentato il nostro il nome del nostro storico istituto per tanti anni è l'ambiente polare grazie a tutti per l'attenzione grazie a tutti e buoni grazie e Grazie a tutti